Camicia rossa di sempre, pantaloni bianchi e camicia rossa, questa per lui è una divisa. Lui è un grandissimo esperto di questa disciplina. Vedete come fa a volteggiare questo piccolo aquilone? Quello che abbiamo visto fare questa mattina con aquiloni acrobatici a due o quattro fili, cioè il fatto di riuscire a indirizzare l'aquilone un po' ovunque, di fermarlo improvvisamente, eccetera, le cose che loro riuscirono a fare con quattro fili o due fili, lui lo fa con un filo solo, grazie ad una tecnica che si apprende provando e riprovando e soprattutto che si comincia a praticare fin da bambini, così come ha fatto lui e come fanno i bambini in Afghanistan. i cacciatori, i cosiddetti cacciatori di aquilone. Vedete con che precisione sfiora quasi le teste nel pubblico. E' qua, che diciamo sarà probabilmente l'aquilone cacciato, no? L'aquilone che... Iqbal, fate molta attenzione perché quello di cosa, quello di Wallace, Staff Wallace, è il blu e questa operazione sarà molto veloce, nel momento in cui taglierà il filo, noi forse il nostro occhio farà fatica addirittura a vederlo. Perché tutto avviene velocissimamente, grazie ad una tecnica che il nostro amico Stafford ha appreso fin da bambino. Vedete in questo momento sta volando molto più alto Stafford con il suo patang blu, mentre Iqbal si trova... Intanto abbiamo perso la mamma di un altro bambino, ma seguiamola... Allora, dobbiamo seguire un attimo, poi troviamo subito tua madre. Allora, osservate e fate attenzione, l'aquilone blu e l'aquilone rosso, parlo di questi due piccoli aquiloni. A un certo punto, stai qui vicino a me che troveremo subito anche la nonna. State a guardare, è abbastanza complesso perché naturalmente Iqbal non è il suo, diciamo, rivale d'abitudine, ma Iqbal è un valido volatore. Ecco, è stato tagliato, guardate che sta cadendo, l'aquilone rosso cade libero. Il blu è dietro di lui, è più avanzato rispetto alla caduta. Vedete che sta girando per avvolgere il filo, ormai tagliato, l'ha preso. Eccolo qua. E si capisce che l'ha preso perché è ritornato in vuota. È una cosa assolutamente straordinaria. È un miracolo, per me è un miracolo.